Le nostre valli di Primiero, Vannoi e Miss non hanno una rappresentanza nel Consiglio Provinciale. Secondo noi non è giusto, la legge elettorale va cambiata, ogni territorio, ogni comunità del Trentino deve poter esprimere la propria rappresentanza, deve poter elaborare progetti di area vasta, deve poter ragionare sul proprio futuro. Abbiamo trovato in onda di Filippo De Gasperi un supporto e un incoraggiamento, per questo vorremmo costituire una lista fatta di cittadini e cittadine di Primiero, Vannoi e Miss, e sostenere la sua corsa alle elezioni provinciali d'autunno. Noi ci siamo impegnati in questa iniziativa, che riteniamo così un laboratorio politico che potrà essere anche replicato in altri territori della nostra provincia. Noi qui ci sentiamo molto lontani e quindi abbiamo anche pensato, grazie alla possibilità di appoggiarci a una lista come Onda e a un candidato presidente come De Gasperi, molto noto qui in zona per i suoi reiterati interventi negli anni, abbiamo pensato di coinvolgere la società civile e di tentare così anche per svegliare, per ritrovare la passione politica della gente che ormai si è così ritirata, ormai non partecipa più al bene della propria comunità. Ecco, questa iniziativa è quasi provocatoria, non abbiamo delle grosse illusioni naturalmente, ma è stata avviata in funzione di veramente dare una scossa alla nostra comunità, anzi alle nostre comunità, perché tutto il Trentino ha la necessità di questa scossa.